Sport e territorio Protagonisti nell'evento Eccellenza dello Sport Mugello durante il quale il territorio mugellano ha celebrato le sue società e i suoi atleti più meritevoli. Un'edizione zero svoltasi nell'auditorium delle scuole superiori di Borgo San Lorenzo durante la quale sono stati premiati 26 atleti e 80 associazioni alla presenza di un nutrito pubblico. L'evento, voluto e organizzato dall'Unione dei Comuni del Mugello, ha avuto come obiettivo quello di valorizzare e dare visibilità alle numerose associazioni e società sportive locali impegnate nella promozione e la crescita dello sport declinato nelle varie discipline. Presenti all'evento, sindaci e assessori dello sport dei vari comuni mugellani, oltre il consigliere nazionale del CONI Eugenio Gianni. Tra gli intervenuti anche il presidente e l'assessore allo sport dell'Unione dei Comuni del Mugello, Paolo Moboni e Stefano Passiatori, che hanno così commentato la giornata. Un'iniziativa per omaggiare atleti che si sono particolarmente distinti nelle rispettive discipline a livello regionale, nazionale e internazionale, ma anche un momento di valorizzazione delle numerose associazioni e società sportive locali. Del resto, il nostro territorio esprime una ricchezza di società e associazioni sportive, sia per quantità che per qualità, molto attive e vivaci. Crescono talenti, campioni e cresce così il nostro territorio e meritano tutti un ringraziamento. Questi gli atleti a cui è stato assegnato il riconoscimento eccellenza dello sport. Inoltre, ad 80 soldi, associazioni e società locali, è stata consegnata una pergamena a riconoscimento dell'impegno profuso nella promozione e valorizzazione della pratica sportiva. È il quinto anniversario per la Polizia Municipale Unione Mugello, della struttura unica costituita da sette comuni, Barberino, Borgo San Lorenzo, Di Comano, Barradi, Palazzuolo, Scarpri e San Piero e Vicchio. Lo si è celebrato a Borgo San Lorenzo facendo anche il bilancio dell'attività condotta nel 2017. La cerimonia si è tenuta a Villa Pecori Giraldi, dopo la messa, ufficiata alla chiesa del Santissimo Crucifisso da Don Luciano Marchetti. Oltre ai comandanti della Polizia Municipale, Stefano Baldini, Marco Bambi, Paolo Baldini, Luca Poegiali e altri agenti, erano presenti, tra gli altri, il presidente dell'Unione dei Comuni e sindaco di Borgo San Lorenzo, i sindaci di Scarperie San Piero, Di Comano, Vicchio, il vice sindaco di Marradi, un assessore del Comune di Barberino, la consigliera regionale del territorio e il comandante della Compagnia dei Carabinieri Paolo Bigi. Il comando della struttura unica è esercitato ogni anno in rotazione dai comandanti dei distretti locali, Paolo Baldini, Barberino del Mugello, Marco Bambi, Borgo San Lorenzo, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Stefano Baldini, Scarperie e San Piero e Luca Poegiali, per Vicchio e Di Comano. Nel 2018 il ruolo di comandante viene assunto da Luca Poegiali, dopo essere stato ricoperto lo scorso anno da Stefano Baldini e in precedenza da Marco Bambi e Paolo Baldini. Prima del passaggio di consegne, rappresentato simbolicamente con lo stemma del Pegaso, il comandante uscente Stefano Baldini ha illustrato il bilancio 2017. Complessivamente, lo scorso anno sono state elevate 15.748 sanzioni, delle quali 545 per eccesso di velocità con autovelox, 62 per mancanza di copertura assicurativa, 236 per omessa revisione, 9 per stato di ebrezza e 235 relativi a cinture di sicurezza. I veicoli controllati sono stati 26.584 con 63 sequestri e 10 fit, 58 patenti ritirate e 4.104 punti della patente decurtati, mentre sono stati 3.102 i conducenti controllati nei 74 servizi di sicurezza stradale sul territorio, con 9 risultati positivi all'etilometro e sanzionati. Dei 196 incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale, 77 si sono verificati all'interno dei centri abitati e 119 su strade extraurbane, 93 con soli danni, 103 con feriti e nessuno mortale. In attività di Polizia Urbana e Amministrativa sono state accertate 213 violazioni, di cui 88 relative ai rifiuti, di cui 51 con fototrappoli, mentre nei cantieri edili sono stati condotti 45 controlli, con 16 sanzioni amministrative e 19 di natura penale. Come attività di Polizia Giudiziaria sono scattate 78 notizie di reato, con un sequestro penale e si sono eseguiti 81 procedimenti delegati dall'autorità giudiziaria. Ancora si sono gestite 541 denunce di cessioni fabbricati e 42 per infortuni sul lavoro, 2.696 informative anagrafiche, 189 pratiche per occupazione di suolo pubblico, 137 per oggetti smarriti e 756 ordinanze di modifica alla circolazione stradale, oltre a 7.626 richieste di intervento gestite direttamente dalla centrale operativa. I servizi effettuati nelle frazioni con ufficio mobile sono stati 673, i servizi con pattuglie a piedi nei centri storici 528. Oltre 40.000 euro per il ripristino dei sentieri danneggiati dal maltempo. Il forte vento, soffiato anche di recente e le nevicate abbondanti della fine del 2017, hanno infatti provocato nel complesso demaniale regionale Gioco-Casaglia la caduta di numerosi alberi e smottamenti, danneggiando così alcuni tratti dei sentieri che lo attraversano. Tratti, in alcuni casi, impraticabili, con disagi per gli escursionisti e non solo. L'assessorato alla forestazione dell'Unione dei Comuni del Mugello tramite l'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale ha effettuato anche sulla base di segnalazioni dirette di escursionisti ripetuti sopralluoghi per una ricognizione precisa della situazione e per attivare gli interventi necessari al ripristino dei tratti danneggiati. Interventi per un investimento complessivo di 40.000 euro stanziato direttamente dall'ente. Gli interventi di somma urgenza sono concentrati sul percorso dell'ultratrail Mugello, molto frequentato in tutti i periodi dell'anno e sul quale si corre la manifestazione sportiva internazionale. In particolare, è già stato ripristinato l'anello corto, 23 km, e per oltre la metà di quello lungo, 60 km, ma i ripristini proseguiranno. Infatti, i danni causati dal maltempo sono stati diffusi ed hanno interessato un'area ben più estesa del demanio regionale e per questo l'Unione dei Comuni, tramite l'Ufficio PAF, Patrimonio Agricolo Forestale, ha richiesto alla Regione Toscana fondi per la forestazione, così da poter ulteriormente intervenire nella salvaguardia e manutenzione dell'ambiente, anche ai fini della sicurezza per chi frequenta i boschi del territorio. Intanto, l'Unione dei Comuni invita alla prudenza e comunque raccomanda, se si intraprende un'escursione, di ricordare e osservare le principali regole di sicurezza. Nell'area, in diversi punti, sono infine dislocati cartelli georeferenziati e riportati sulla mappatura della protezione civile, con posizione e numeri di emergenza da contattare in caso di necessità. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS